Ovviamente ASET, con la quale il Comune di Fano sta facendo quest'opera, per la quale stiamo collaborando, ha messo in campo addirittura due squadre di operai. Nel primo scolmatore, quello di Viale Ruggeri, quello più grande anche come dimensione, stanno già posando il tubo, che è un tubo in HDP e falangiato, viene via via posato anche con l'ausilio dei sub, oltre che del pontone che guida la posa. Proprio in questi giorni hanno già posato circa 130 metri, sono arrivati a ridosso delle scogliere e nei prossimi giorni, sempre con condizioni meteomarine permettendo, continueranno quest'opera che, ricordo, permetterà di portare a largo l'eventuale scolmatore delle fogne di Fano e le porterà a circa 300 metri, quindi siamo quasi a metà e quindi serviranno altri setti da 90 metri che poseranno e fermeranno sulla base del mare e che poi, essendo falangiati, verranno accoppiati in maniera tale che tutto funzioni bene. Hanno completato, da quello che so che mi risulta, la parte a terra con tutta la parte elettrostrumentale e meccanica, quindi la parte di terra con le pompe e il telecontrollo è già a posto e quindi stanno, diciamo, proseguendo in maniera spedita le attività. Mentre in quello vicino all'ex pista dei go-kart, quello un po' più indietro, lo sapevamo, hanno iniziato oggi a liberare le scogliere radenti che proteggevano quando serviva via le ruggieri dall'erosione marina, quindi hanno aperto un varco per poi iniziare a scavare e iniziare a posare anche lì un tubo che è un po' più piccolo e che porterà comunque circa a 400 metri, diciamo, lo scarico, quindi delle fogne. Quindi sta procedendo tutto abbastanza bene. Come detto, l'impegno e la speranza, che ovviamente dipende moltissimo delle condizioni metomarine, è quella di finire prima dell'estate.